O Cuore Immacolato di Maria, ci rivolgiamo a Te, Madre di Dio e Madre dell'intera umanità, perché Tu possa accogliere la nostra incessante e fiduciosa preghiera per la pace nel mondo intero. Ti affidiamo, Maria, la Russia e l'Ucraina, di cui Tu sei la Regina, e la Madre premurosa di ogni Tuo figlio di queste martoriate terre dove oggi si compatte una sanguinosa guerra. Come alle nozze di Cana e lungo la via del Calvario, chiedi a Gesù il dono della pace per l'intera umanità. E fa che nell'Ucraina tacciano i rumori della guerra, si fermi la strage degli innocenti, si ritorni a vivere in amicizia tra russi e ucraini. Maria fa che nulla possa turbare il consenso civile dell'intera umanità, desiderosa più che mai di pace e fratellanza universale. Maria, ascoltaci. Maria, esaudiscici. Maria, intercedi per noi presso Tuo Figlio Gesù Cristo, nostro Salvatore e Redentore. Amen. Grazie a tutti.